Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ragazzi ben ritrovati, buongiorno, buona domenica, video post partita anche se un pochino più a freddo del derby della Mole, Torino Juventus risultato finale 0-1. Prima di cominciare a commentare l'ennesima sconfitta frustrante in un derby vi ricordo di scaricare OneFootball, una delle migliori app di calcio in circolazione disponibile su iOS e Android e applicazione che vi permetterà di seguire in tempo reale tutte le news che ruotano appunto attorno al mondo del pallone. Notizie, calcio mercato, risultati live, highlights delle partite, l'app personalizzabile con, diciamo anche, per selezionare la vostra squadra del cuore e soprattutto è totalmente gratuita, scaricabile dal link qui sotto in descrizione. OneFootball, scaricatela, è gratis e aiuterete a crescere il canale. Che dire di questo Torino Juve? Ma diciamo che alla fine del primo tempo si poteva già annusare come sarebbe finita non tanto perché io pensi di essere un mago, un sensitivo, quanto perché lo sviluppo della partita è stato abbastanza simile ad altri match che abbiamo vinto non solo in queste prime 10 giornate di campionato ma già nelle stagioni precedenti soprattutto la scorsa. In realtà, per esempio, mi viene da fare un parallelismo con la sconfitta sempre per 1-0 a San Siro con l'unica differenza che lì il gol è arrivato proprio alla fine, qua quello di Vlaovic è arrivato un po' prima ma poco importa perché se a Milano non avevamo tempo di reagire, di provare almeno a riprendere il match ieri ce lo avevamo e non lo abbiamo sfruttato perché dopo l'1-0 la partita è proprio finita il Toro è uscito non solo fisicamente ma anche mentalmente dal match e l'epilogo finale non poteva che essere questo però mi viene in mente anche per esempio la partita con la Lazio dove si è pareggiato 0-0 soltanto perché loro negli ultimi minuti non ci hanno creduto abbastanza io rimango della mia idea e ripeto cose già dette dopo le partite col Sassuolo, col Napoli, con l'Empoli questa squadra ha dei problemi che non riesce a risolvere io non so se perché siano irrisolvibili o perché non si trova la chiave per poterci mettere mano fatto sta che alla fine tutti i nodi vengono al pettine e sono figli a certe prestazioni anche di scelte fatte a monte mi riferisco all'estate appena passata, al mercato e quant'altro la cosa frustrante è che comunque in realtà non c'è niente che non va nella partita del Toro di ieri cioè nel senso il Toro ha fatto il massimo di quello che poteva fare c'è stato impegno, per certi momenti del match si è provato anche ad accelerare un po' i ritmi provando a mettere in difficoltà la Juve ma l'enorme problema che abbiamo nell'ultimo terzo di campo sia a livello di rifinitura sia a livello di concretizzazione è enorme d'altronde i numeri parlano chiaro, sette gol in dieci partite alcuni dei quali totalmente casuali come per esempio quello di Lukic contro l'Empoli che se non fosse stato quell'episodio era un'altra partita che avremmo giocato per giorni senza segnare mai uno spunto diverso dal proviamo a entrare in porta col pallone anche questo è un dato oggettivo sette reti tutte con tiri all'interno dell'area di rigore mai un tiro da fuori, un calcio da fermo, una mischia in aria su calcio d'angolo magari sfruttare un cross, nulla siamo totalmente apatici da questo punto di vista e quindi cosa succede? che anche un avversario estremamente fuori forma come la Juve di ieri può annullarci abbastanza facilmente infatti il primo tempo è stato molto brutto veramente un pugno in pancia a tutti gli amanti del calcio due squadre inguardabili in campo da una parte una Juve timorosa perché comunque Oro vuoi o non vuoi sta partita dove hanno vincerla visto che arrivano da un periodo abbastanza delicato e noi non abbiamo fatto nulla per morderli tanto è vero che l'unica volta in cui nel primo tempo Shesny si è sporcato i guantoni e su quel tiro di Miranchuk che è assolutamente parabile, centrale, telefonato questo è stato il toro del primo tempo nella ripresa non siamo partiti neanche male abbiamo avuto cinque minuti in cui in due o tre occasioni siamo riusciti a metterli in difficoltà mi riferisco nello specifico all'azione di Lazaro sulla sinistra che se ne va a quadrado poi mettendo in mezzo trova la deviazione di Danilo e Shesny è pronta a mettere in angolo questa è stata la parte più difficile di Shesny poco dopo il sinistro strozzato di Vlasic che doveva metterla, incrociarla sul secondo palo la tirata sul primo facilmente leggibile dal portiere polacco e poi c'è stata la grossa occasione per Miranchuk una manciata di minuti prima dal loro gol queste sono le sliding door che il torno riesce mai a sfruttare io sono convinto che se da lì Miranchuk me la butta dentro cambia la partita ovvio non ne ho la certezza ma ne sono abbastanza convinto perché loro stavano provando timidamente ad uscire e a metà ripresa trovare quel gol li avrebbe psicologicamente ammazzati invece loro consapevoli del fatto che prima o poi dietro qualcosa avremmo concesso e se non sono andati in vantaggio prima del gol di Vlaovic è soltanto a causa delle loro imprecisioni di un paio di interventi di Mininkovi Savic ma altrimenti il gol lo avrebbero potuto trovare ben prima loro noi molto di meno e di conseguenza aspetta 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 poi comincia la fase critica della partita che va dal settantesimo in avanti quella dove noi praticamente subiamo sempre almeno un gol e anche ieri sera la regola non scritta che si è autonomamente autoimposta a questa squadra si è verificata sul gol di Vlaovic ci sono chiaramente delle responsabilità della difesa di posizionamento nello specifico Aina che guarda il pallone e fa un errore da scuola calcio mentre l'attaccante della Juve che chiaramente è Vlaovic ora possiamo stare lì a discutere sul fatto che non stia rendendo qualcuno lo definisce scarso ma sì, scarso i carpentieri del calcio lo definiscono scarso ma è uno che in area di rigore si trova proprio nel suo habitat naturale tanto è vero che finché ha dovuto giocare a 30-40 metri dalla porta non ha combinato nulla ha tagliato dietro Aina che ingenuamente guardava dove stava andando il pallone ed è una posizione ravvicinatissima non ha potuto far altro che buttarla dentro lì la partita è finita il Toro ha un'incapacità cronica di reagire non so da cosa sia portato questo e mi viene da dire che dopo 10 partite comincia a interessarmi anche relativamente perché come ho già detto una volta se non è interesse dell'allenatore dello staff e dei giocatori venire a capo di questo problema perché me ne devo fare io le fisime tutto qui il Toro ieri ha fatto la partita che doveva fare non ha fatto nulla che non andasse ripeto c'è stata anche della volontà c'è stata anche voglia di provare in qualche maniera a venire a capo di questa partita ma alla base c'è un'incapacità di farlo perché? e questa è una bella domanda questa è una bella domanda tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa a me va bene tutto ma questo Juric non è quello di Verona cioè il suo Verona nel biennio 2019-2021 metteva sotto le big ok? le dominava soprattutto dal punto di vista fisico e dell'intensità e lo faceva con una rosa di calciatori che hanno meno avevano meno qualità dei calciatori che allena quest'anno perché se da una parte è vero che il Toro di quest'anno è meno forte meno qualitativo meno impattante meno concreto del Toro dell'anno scorso è anche vero che il Toro di quest'anno versione 22-23 è più forte qualitativamente sia del primo che del secondo Verona di Juric io vi vorrei ricordare che a Verona Juric soprattutto il primo anno si è trovato una squadra fatta di scarti di giocatori finiti ultra trentenni giovani da scoprire da lanciare e ha fatto un signor campionato di metà classifica quando tutti davano il Verona per spacciato io per primo ricordo i tempi che l'ho misi comunque tra le squadre in lotta per la retrocessione quindi Juric sa lavorare in queste situazioni sa cosa fare in queste circostanze ed è per questo che io mi domando per quale motivo questo Toro non assomigli nemmeno un po' a quel Verona io sono convinto che una chiave per arrivarci ci sia oppure c'è qualcuno che può legittimamente pensare che questa squadra attuale sia scarsa però allora la dirigenza e la società sono colpevoli perché questa squadra ha dei calciatori i cui costi dei cartellini i cui ingaggi che poi vanno a diciamo a fare il monte ingaggi complessivo della squadra sono molto più alti di quelli che aveva quel Verona quindi significa che se l'allenatore non ha la squadra adatta per farla rendere ci sono delle responsabilità in dirigenza di chi ha scelto certi giocatori di chi ha fatto di chi ha preso certe strade e anche di chi ha monte le avallate da questo non si può non si può uscire perché il toro che vediamo in campo paradossalmente è preoccupante proprio perché sta dando il massimo sta dando il massimo il problema è che il massimo non basta non basta non dico per fare risultati per muovere la classifica quello è relativo ci salveremo non è questo il punto il punto è che tu stai regredendo dal punto di vista del gioco e quindi della prestazione la prestazione è quella che non può mai mancare o può mancare saltuariamente il problema è che arriviamo da un filotto di partite dove primo tempo a parte contro l'Empoli si è sempre mediamente fatto male a livello di prestazione capite qual è il discorso anche perché e qua arrivo al completamento del concetto c'è un altro grosso problema al momento il toro ha dei titolari inamovibili che non sono adatti a essere titolari a una squadra che cerca si prefigge l'obiettivo di fare un passo avanti rispetto allo scorso anno gente come Gigi come Aina come Linetti come Mininkovic Savic sono giocatori inaffidabili sulle 38 partite perché non mi riferisco nello specifico al derby di ieri dove sul gol per esempio c'è una responsabilità di Aina che fino a quel momento per esempio non aveva fatto male anzi secondo me aveva dato anche un po' di continuità alla partita fatta contro l'Empoli il problema è che da giocatori come questi qua prima o poi la vaccata arriva arriva e ti risolve la partita a San Siro la paper di Mininkovic con l'Empoli Gigi che marca in maniera vergognosa a destro ieri Aina che si perde Vlaovic e tutti questi singoli episodi messi insieme ti portano poi a fare il ciclo di partite che hai fatto che anche mentalmente ti distrugge perché psicologicamente continuano a muovere la classifica sono 4 sconfitte nelle ultime 5 e vi ricordo che il prossimo weekend andiamo a Udine e poi a Torino arriva il Milan e questo è il fatto cioè tu a metà ottobre hai mezza squadra titolare con giocatori che palesemente non possono fare i titolari e te lo dimostrano domenica dopo domenica in campo perché a turno a turno l'episodio negativo nasce sempre da un loro errore come si è arrivati a tutto questo come si è arrivati a tutto questo sicuramente costruendo una rosa risicata sicuramente costruendo una rosa poco idonea a quelle che sono le idee del mister che sicuramente di suo io non capisco se sta andando in conclusione o se abbia un pochino tirato i rimi in barca percependo definitivamente che comunque non verrà mai affiancato dalla società queste sono cose che deve risolversi lui però non possiamo risolvergli noi chiudo ancora con due cose sui singoli ce ne sono tanti che a me ieri non sono piaciuti ve ne cito due in particolare Miranchuk a me io capisco che debba ritrovare la forma mi piacerebbe capire come sta lavorando in settimana perché c'è qualcosa che non va è un giocatore totalmente assente in campo mi andrebbe anche bene se però quando gli capita il pallone buono sui piedi lui mi fa la giocata risolutiva cosa che ieri non ha fatto anzi ha danneggiato il toro con quel gol sbagliato un altro che mi è piaciuto molto poco è stato Pellegri mi spiace ma qualcuno ve lo deve dire lo farò io Pellegri al momento non è più nemmeno dello Zazza che tanto odiavate che tanto criticavate che tanto insultavate solo che non si chiama Zazza non ha giocato nella Juventus e quindi va tutto bene madama la Marchesa ma se avete visto come è entrato in campo Pellegri ieri così come era entrato in campo nelle pareti precedenti un atteggiamento arrogante insolente litigioso sia con l'arbitro che con gli avversari palloni tenuti zero occasioni in cui è riuscito a far salire la squadra zero va bene questa è un'altra di quelle scelte a monte di cui parlavo prima si è deciso di puntare su Pellegri in alternativa a Sanabria ottimo ora chi lo ha deciso si prende le sue responsabilità perché se Pellegri è questo è un attaccante totalmente inutile per quello che deve essere il calcio che si prefigge di fare il Torino di Ivan Juric punto parlando invece di note positive sono rimasto molto molto sorpreso piacevolmente da Lazaro per me è stato il migliore in campo e ho visto anche dei voti poi ne parliamo nel video delle pagelle troppo bassi per me ha fatto una partita lineare abbastanza precisa forse l'unica cosa che poteva migliorare è quando arriva sul fondo questi cross sempre tagliati male mai il pallone che si alza sempre a mezza altezza ma se migliora su quello a sinistra potrebbe aver trovato la sua la sua collocazione per me ieri ha fatto molto bene mettendo in difficoltà la Juve in diverse situazioni sia nel primo che nel secondo tempo però gli altri ecco a parte Scurs che ha fatto una buona partita Vlacic che ha fatto quello che ha potuto e comunque siamo sulla sufficienza o poco più gli altri bene o male hanno palesato le solite problematiche di una squadra che fatica a trovare discontinuità scusate fatica a trovare la continuità ma troppe volte e discontinua mi viene in mente per esempio l'azione del primo tempo e la parata di Milinko i Savi su Vlacic arriva su un errore difensivo di Rodriguez che teoricamente è uno di quelli su cui ti devi affidare non lo so io non so con che prospettiva possiamo guardare alle prossime partite sinceramente non credo che il Torino possa essere risucchiato dietro perché davvero dietro ci sono squadre che faticano a muovere la classifica certo è certo è che siamo solo a metà ottobre e qua cominciano a scarseggiare anche gli input e quindi è difficile è difficile arrivare a maggio soprattutto adesso che poi a novembre ci si prospetta davanti un mese e mezzo di nulla dove ci inventeremo qualcosa di cui parlare e probabilmente arriveremo a gennaio con una classifica abbastanza definita che porterà a fare alcune scelte sul mercato di gennaio che saranno probabilmente sbagliate e niente si tirerà a campare fino a maggio non lo so io più o meno la vedo così se volete dirmi come la pensate potete farlo come al solito qua sotto nei commenti vi chiedo per favore di lasciare un like al video e soprattutto se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al canale che è molto molto importante seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione attivate la campana degli aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro